era una notte di pioggia dopo aver girovagato su e giù per le strade scoscesi di omori il mio risciò si fermò davanti a una piccola casa in stile occidentale circondata da piante di bambù l'ingresso rivestito di vernice grigia ormai scrustata era scomodo e angusto la lanterna del conducente del risciò illuminò una targhetta in ceramica l'unica cosa recente di quell'entrata c'era scritto in caratteri giapponesi mitiram misra indiano mitiram misra penso che a pochi di voi non risulterà familiare è un giovane patriota originario di calcutta che lotta per l'indipendenza dell'india da molti anni è anche un profondo conoscitore dell'arte magica avendo imparato questa disciplina segreta dal famoso brahmano Hassan Khan avevo conosciuto misra giusto un mese prima me l'aveva presentato un amico in quell'occasione avevamo parlato di politica ed economia ma non aveva eseguito nessuna delle sue magie principali per questo gli avevo scritto ed ero corso in risciò fino alla squallida omori quella sera mi avrebbe mostrato la sua arte magica così sotto la pioggia incessante suonai il campanello sotto la targhetta illuminata dalla luce inserta della lanterna che mi porgeva il conducente del risciò un attimo dopo la porta si aprì e dall'uscio sbucò il volto della piccola vecchietta giapponese che badava alla casa di misra e signor misra è in casa vi stavo aspettando prego entrate disse gentilmente la vecchina così vercai la soglia dell'entrata e mi presentai nella stanza dove misra mi attendeva buonasera vedo che la pioggia non vi ha fermato mi salutò con cordialità mentre era intento a torcere lo stoppino della lampada a olio appoggiata sul tavolo era scuro di pelle con gli occhi enormi e un paio di soffici baffi cosa sarà mai un po di pioggia di fronte alla possibilità di vedere la vostra arte mi sedetti i miei occhi spaziavano in quella stanza tetra illuminata dalla luce fioca della lampada a olio era arredata in uno stile occidentale in mezzo c'era un tavolo nero al muro era appeso un pratico scaffale per i libri mentre lo scrittoio era posizionato davanti alla finestra non c'era altro eccetto le sedie dove eravamo seduti noi era tutto molto vecchio la tovaglia decorata con motivi floreali rosso sgargiante era così malandata che pareva potesse disfarsi da un momento all'altro terminati i convenevoli restammo qualche istante ad ascoltare il rumore della pioggia battente che proveniva dal boschetto di bambù finché la vecchia governante entrò nella stanza portando delle tazze di tè su un vassoio misra alzò il coperchio di una scatola di sigari gradite un sigaro volentieri grazie dissi senza fare complimenti prendendone uno dalla scatola e accendendo un fiammifero poi aggiunsi i vostri spiriti protettori si chiamano gin non è così le magie che state per mostrarmi provengono forse dai loro poteri misra cese un sigaro a sua volta e fece un sorriso ironico sbuffando il fumo aromatico la credenza nei gin esiste da secoli e secoli se ne parla già nelle mille e una notte l'arte magica che ho appreso da assang can potreste metterla in pratica anche voi è solo suggestione basta fare così con la mano guardate così dicendo misra alza un braccio con la mano disegnò due o tre volte la forma di un triangolo davanti ai miei occhi poi la appoggiò sopra la tovaglia e un istante dopo colse uno dei fiori rossi che la decoravano distinto scostai la sedia stupefatto guardai con più attenzione ma era proprio uno dei fiori della tovaglia non c'era alcun dubbio misra me lo accostò al naso aveva persino un profumo intenso simile a quello del muschio sbalordito mi abbandonai a esclamazioni di ammirazione mentre misna ridendo lasciò candidamente cadere il fiore sopra il tavolo e una volta tornato nel disegno non fu più possibile farlo emersere di nuovo o muoverne un solo petalo che me ne pare è un gioco da ragazzi ora guardate la lampada ad olio non fece in tempo a dirlo che la lampada sul tavolo iniziò a girare su se stessa come una trottola o meglio era il paralume a ruotare vorticosamente come intorno ad un asse sul momento ebbi paura temevo che sarebbe potuto scoppiare un incendio ma misra non dava alcun segno di agitazione al contrario continuava a sorseggiare il suo tè in tutta tranquillità alla fine mi calmai anch'io e continuai a guardare il paralume che prese a girare sempre più veloce la fiamma giallogno la rimaneva immobile all'interno del paralume che invece roteava muovendo l'aria tutto intorno era uno spettacolo straordinario l'indescrivibile bellezza la lampada aveva preso una tale velocità che non riuscivo più a vederne il movimento ma prima che me ne accorgesse si era fermata lo stoppino inclinato come quando era stata appoggiata sul tavolo sorpreso e pensare che potrebbe farlo anche un bambino se volete posso mostrarvi qualcos'altro misra si voltò a guardare lo scaffale sul muro e fece come per indicarlo col dito allungando il brazzo stavolta furono i libri sistemati sopra a muoversi uno dopo l'altro si alzarono in aria come se niente fosse fino a sorvolare il tavolo svolazzavano con le copertine aperte come pipistrelli in una notte d'estate rimasi sballordito col sigoro appeso tra le labbra i libri che fluttuavano liberi davanti ai miei occhi si fermarono sopra il tavolo e si misero placidamente uno sopra l'altro sino a formare una piramide poi passandomi sopra la testa tornarono tutti dove erano venuti in direzione dello scaffale disponendosi nell'ordine precedente ma la cosa più incredibile fu che uno di essi rimase sospeso a mezz'aria la copertina sottile aperta come si trattasse di un paio d'ali dopo aver disegnato un cerchio sopra il tavolo mi cadde di colpo sulle ginocchia con un rumore di pagine scosse mentre lo prendevo in mano per dargli un'occhiata mi accorse che era un nuovo romanzo francese che avevo prestato a misra giusto la settimana prima vi sono grato per avermelo lasciato così a lungo vi ringrazio a misra sempre col suo sorriso intanto i libri erano tutti tornati al loro posto sullo scaffale per qualche istante non riuscì a dire niente mi sentivo come se mi fossi appena risvegliato da un sogno perché mi ricordai delle parole pronunciate da misra poco prima quest'arte magica potreste metterla in pratica anche voi ho sentito parlare spesso della vostra reputazione ma mai avrei pensato che avreste una tale padronanza della magia a proposito quando dicevate che anch'io potrei riuscire stavate scherzando non è così ci riuscireste e come chiunque potrebbe senza il minimo sforzo o meglio mentre parlava così mi fissò dritto negli occhi assumendo un tono inaspettatamente serio o meglio chiunque tranne le persone avide chi vuole apprendere le tecniche magiche di Hassan Khan deve rinunciare alla brama di possesso pensate di esserne in grado credo di sì risposi ma provai uno strano disagio così mi affrettai ad aggiungere sempre che voi siete disposto a insegnarmele misra apparve incerto ma esitare troppo a lungo dovette pareggi e scortese così assentì generosamente e disse va bene ve le insegnerò ma stanotte dovrete fermarvi qui da me come vi dicevo le tecniche sono semplici ma padronezzarle richiede tempo ve ne sono immensamente grato lo ringraziai più volte tanto ero felice di poter apprendere la magia misera però non sembra farci caso e con calma si alzò dalla sedia signora signora il nostro ospite passerà qui la notte preparate di un letto i miei occhi erano fissi sul volto del magnanimo misera illuminato dalla luce della lampada ad olio ero così eccitato che mi dimenticai persino di scrollare la cenere del sigaro era passato un mese da quando misera mi aveva insegnato le tecniche magiche pioveva di rotto anche quella notte ma stavolta mi trovavo in un locale di ginza con cinque o sei amici chiacchieravamo del più e del meno davanti al fuoco di un caminetto eravamo nel pieno centro di tokyo e benché fuori dalla finestra la pioggia continuasse a scrosciare fitta per strada c'era un viavà incessante di automobili e carrozze coi tettucci fradici attorno imperava una con serie di suoni così diversa rispetto al rumore malinconico della pioggia che cadeva sul boschetto di bambù di omori e anche il clima allegro al di qua della finestra la calda luce del caminetto le grandi poltrone di pelle provenienti dal marocco e il luccicante pavimento impregiato legno di ioseggi non avevano nulla a che fare con la casa di misera dove da un momento all'altro sembrava potessero saltare fuori i fantasmi avvolti nel fumo dei sigari parlavamo di caccia e corse di cavalli quando a un certo punto uno dei miei amici gettò un mozzicone nel fuoco del caminetto e mi chiese ho saputo che ultimamente ti diletti con la magia vero perché non ce ne fai vedere qualcuna ma certo dissi appoggiando la testa sulla poltrona con la presunzione di un consumato illusionista tutto quello che volete vi mostrerò delle magie che nessun altro prestigiatore al mondo ha mai fatto prima tutti annuirono e iniziarono a guardarmi in trepidante attesa seduti sul bordo delle loro poltrone allora mi alzai in piedi con estrema calma guardate con attenzione non c'è trucco nella mia magia precisai rimboccandomi i polsini dopodiché raccolse un pezzo di carbone che stava bruciando nel caminetto e lo tenne sul palmo della mano da solo vedendo questo gli amici intorno a me persero la loro spavalderia si guardarono l'un l'altro confusi e cominciarono a indietreggiare per paura di potersi bruciare io intanto acquistavo sempre più sicurezza dopo aver mostrato a tutti il carbone ardente che tenevo in mano lo gettai sul pavimento in legno di iosegi quando coipì terra il rumore dell'acqua che cadeva fuori dalla finestra fu coperto dal suono di una pioggia ben diversa non appena lasciarono la mia mano le scintille rossofuoco emanate dal pezzo di carbone c'erano infatti trasformate in pregiate monete che precipitarono a terra proprio come gocce d'acqua i miei amici si dimenticarono persino di applaudire tanto erano stupefatti è solo l'inizio dissi tornando al mio posto con un sorriso tronfio dipinto sul viso ma sono monete vere chiese sballordito uno di loro dopo alcuni minuti di silenzio certo che sono vere non ci credi controlla pure non scottano chiese e infine raccolse timidamente qualche moneta che giaceva sul pavimento sono proprio vere ragazzo va a prendere una scopa le raccogliamo tutte il serviente fece come ordinato prese una scopa e raccolse tutte le monete sparse sul pavimento poi le impilò sul tavolo saranno 200.000 yen fecero i miei amici radunati attorno al tavolo no sono molte di più un tavolo più fragile sarebbe crollato sotto il loro peso però ha imparato davvero una magia straordinaria trasformare i carboni ardenti in monete di questo passo in meno di una settimana potresti diventare un milionario degno dei mitsui e degli iwasaki mi dissero celebrando la mia magia ma rimanendo seduto sulla poltrona a fumare il sigaro rispose impassibile niente affatto se dovessi cedere all'avidità anche per un solo attimo non sarai più in grado di fare alcuna magia gustatevi queste monete ancora per qualche istante perché sto per buttarle di nuovo nel fuoco a quelle parole i miei amici iniziarono a protestare in coro come se si fossero messi d'accordo zettare nel fuoco tutto quel ben di dio era per loro uno spreco ma io avevo bene in mente la promessa fatta a misera e per non tradirla ero pronto fin anche allo scontro violento di fronte a me si presentò quello che tra loro aveva la fama di essere il più scaltro tu dici che vuoi ritrasformare queste monete in carbone ma noi non siamo affatto d'accordo è evidente che una discussione non servirebbe a nulla allora ho pensato giochiamocele a carte tu contro di noi se vinci tu potrai trasformarle in carbone o in quello che vorrai ma se vinciamo noi ce le darai tutte fino all'ultima in questo modo non scontenteremo nessuno che ne dici scossi la testa non avrai ceduto così facilmente intanto il ghigno sul viso del mio amico rivolto un po a me e un po alle monete sul tavolo si fece via via più arrogante se non giochi disse è perché non vuoi che qualcuno prenda le tue monete non è forse questa una buona occasione per dimostrare fino in fondo che non sei avido e sei degno di continuare a usare la tua magia se le volessi per me non le li trasformerei in carbone e allora giochiamocele lo ripetei così tante volte che alla fine dovetti cedere per togliermi dai pasticci avrei dovuto batterli a carte naturalmente tutti i miei amici esultarono e dopo essersi fatti portare un mazzo di carte si riunirono attorno al tavolo da gioco in un angolo della stanza non avendo altra scelta seppur riluttante un attimo dopo ero lì assieme a loro con le carte in mano non sono mai stato un asso nel gioco eppure quella sera vinsi una mano dopo l'altra non ci potevo credere ma non solo all'inizio non ci facevo quasi caso poi col passare delle partite iniziai ad appassionarmi e in men che non si dica mi lasciai trascinare dalla febbre del gioco dimenticandomi di tutto il resto i miei amici che avevano insistito per giocare proprio perché convinti di portarmi via tutto il denaro erano così presi dalla competizione che il viso di alcuni di loro cambiò persino colore ma per quanto si impegnassero non perse una sola partita e alla fine mi aggiudicai l'intera posta le monete più una somma equivalente di denaro il furbacchione di prima mi gettò le carte in faccia con una violenza tale da sembrare impazzito e sia mi gioco tutto i terreni la casa la macchina i cavalli tutto gridò tu però ti giocherai le monete e il denaro che hai vinto finora forza scopri fu in quel momento che l'avidità ebbe il sopravvento dovevo giocare una mano sfortunata e avrai perso tutto il denaro e la montagna di monete che stavano sul tavolo ma se avessi vinto mi sarei aggiudicato quell'enorme patrimonio in un colpo solo a cosa sarebbe valso imparare la magia se non per una situazione come quella sì avrai usato la magia di nascosto così mi buttai a capofitto nella battaglia del gioco mi sta bene prego prima tu nove re disse in tono trionfante scoprendo la carta il mio avversario sbiancò e in quel preciso istante il re disegnato sulla mia carta si animò come per incanto simile a un fantasma il suo capo incoronato emerse dalla carta e brandendo con regalità eccelsa la sua spada mi sorrise beffardo signora signora lasci stare pure il letto il nostro ospite sta per andarsene disse una voce che mi suonava familiare la pioggia fuori dalla finestra aveva ad un tratto iniziato a cadere con un suono malinconico lo stesso che proveniva dal boschetto di bambù di omori allora mi guardai attorno e capì tutto seduto davanti a me c'era misra illuminato dalla luce fioca della lampada a olio sul suo viso lo stesso sorriso ironico del re disegnato sulla carta era stato un sogno non c'era altro dubbio credevo fosse passato un mese ma in realtà erano trascorsi solo due o tre minuti persino la cenere del sigaro che stringevo tra le dita era ancora lì quei pochi istanti erano stati sufficienti per far capire a me e a misra che non ero una persona degna di imparare le magie di assan can rosso di vergogna restai in silenzio per qualche momento a testa china i gomiti appoggiati sulla tovaglia decorata con fiori rossi misra mi rimproverò pacatamente con sguardo compassionevole per usare le mie tecniche magiche occorre rinunciare all'avidità è evidente che voi non siete ancora pronto magiche occorre rinunciare all'avidità è evidente che voi non siete ancora più Grazie a tutti